Buon pomeriggio amici ascoltatori e ben trovati da Carlo Bellotti al Trastevere Stadium in Roma 34esimo ed ultimo atto della regular season si affrontano Trastevere e Matese il centrale di difesa, Proia allarga verso sinistra, si muove Andrea Santilli che va a sfidare Sisca 1 contro 1, saltato Sisca, attenzione a Santilli in area di rigore il sinistro in mezzo, non c'è nessuno a rimorchio, arriva adesso la conclusione con deviazione, un altro tiro Tribelli, pallone profondo, Pasqualloni mette giù col petto e poi va a lanciare profondo dove si muove Giordano Fioretti che va a duello anche lui con Sisca e prova a superarlo entra in area di rigore, Fioretti, Mancino, la risposta di Martino con Ricciardi a dar fastidio, allora Giordani passa la sfera, raccolta da Macri in area di rigore cercato il suggerimento, ancora Macri col pallone tra i piedi, vuole andare a concludere c'è deviazione e poi il colpo di testa anticipare anche Crescenzo Mancino profondo, la posizione dovrebbe essere regolare, attenzione all'attacco in area di rigore di Napoletano che poi si gira, porta il pallone, vuole liberare il destro, va Napoletano tiro forte ma fuori, punta il secondo ma deve appoggiarsi all'indietro da Calderoni largo Macri, vuole andare forse a calciare, va Macri col mancino, pallone di poco fuori Largo a destra, Grasian Siska, attaccato da Santilli, perde il pallone, c'è Crescenzo la sposta Crescenzo, vuole andare a calciare, lo fa, il palo e poi Santilli anticipato clamorosa occasione per il Trastevere inseguito da Daniele Napoletano, allora il lancio è lungo, c'è Macri, il controllo è l'uno contro uno con Albanese Davide Macri si gira, cerca il cross, c'è Fioretti, la spizzata che per poco non porta avanti il Trastevere arriva il fischio, la finta di Proia, allora Crescenzo, cross in area di rigore colpo di testa, doppio, Martino con i pugni, poi Macri, ancora un salvataggio sulla riga movimento di Fioretti che appoggia per Crescenzo, c'è largo Macri, si sovrappone Cervoni servito, arriva il cross, Fioretti ha tentato il colpo di tacco, pallone allontanato ma non è finita Crescenzo, Proia al volo, Martino se la ritrova, ancora però sui piedi di Gabriele Cervoni e Trastevere che resta in zona d'attacco, Crescenzo, Macri, cercato Fioretti, area di rigore posizione regolare, tiro alto però, tutta la punizione con Giù la spedisce lontano Santilli, Proia, Crescenzo sulla tre quarti, finta il tiro, poi va da Fioretti, vuole provarci Fioretti, traversa, clamorosa, si vanno a piazzare in area tutti i saltatori del Trastevere sono saliti anche Pasqualoni e Giordani, il pallone arriva, colpo di testa che finisce in gol, Fioretti la sblocca il Trastevere alla centro dell'area, la mette in porta il numero 9, 200 gol in carriera per Giordano Fioretti, aggressivo in campo ma con la giusta intensità si gioca con Tribelli che va all'uno contro uno, mette il cross, pallone raccolto in area di rigore, il destro in porta di Galesio che pareggia i conti proprio alla metà della seconda frazione, allora 1 a 1, vediamo se vuole batterla lunga perché tutti i compagni sono nell'area di rigore, infatti battuta lunga verso D'Alessandro, attenzione la sfera rimane lì e viene messa in porta da Galesio, doppietta allora per il numero 9, vantaggio del Matese, poi prova cazzo, non arriva il fischio del direttore di gara, ancora Calderoni che strappa il possesso, mette dentro verso Fioretti, in area di rigore Martino, il miracolo poi il tentativo e la rete di Corsetti pareggia subito il Trastevere, 2 a 2 arriva adesso, triplice fischio finale, gara il sipario al Trastevere Stadium, 2 a 2 tra Trastevere e Matese, ma Trastevere che può sorridere guadagnando il secondo posto in classifica Grazie a tutti!